Salve a tutti i giocatori e benvenuti nel nostro nuovo video, diciamo a quel periodo, è il periodo in cui anche quando non se ne sente bisogno, c'è bisogno comunque della banded, quindi facciamo l'ennesima predizione of the banded Prima di iniziare, come sempre, vi invito a scrivervi il nostro andate prima di sempre, aggiornatevi un mondo di Yugi, grazie mille ragazzi mi raccomando, è importante grazie E andiamo a vedere, allora, per le bannate, casualmente mi metto il numero 89, casualmente, più che altro io penso sia l'unico hit che possono fare a cash tira, perché fondamentalmente il mazzo è nuovo Non possiamo, tra virgolette, non possono permettersi di fare come le banded OCG, quindi bandire subito a manetta i mazzi perché non hanno un costo così fattibile, quindi non possono farlo Cash tira è un mazzo altamente fastidioso, però non è ai livelli di tier, quindi diciamo l'emergenza di buttargli via tutto quanto, diciamo che non c'è Quindi 89, penso sia l'hit più probabile, e poi ovviamente non toccheranno niente Poi, esplosione marchiata, altro hit Allora, io voglio partire dal presupposto che non devono fare come Fibrax, ovvero banni tutti i target per non bandire questa Bandire il... che è Gimme Puppet o altra roba, secondo me non ha senso Vai a togliere direttamente questa Perché è questo il fatto, se no vai a fare come Alfibrax, banni prima tutto quello che gira intorno a questa Poi, dopo che hai bannato tutto, hai fatto terra bruciata, levi questa e pian piano ne metti gli altri No, togli direttamente questa E poi, come altra bannata, lo so, questa effettivamente era una carta che non ci si aspettava Prima di un tot E invece il virus, epidemia, è un qualcosa di... è veramente atroce Si poteva andare a pensare in altri float gate, però secondo me questo è il peggiore Perché ti leva le carte dalla mano, te le leva dal terreno e te le leva quando le peschi Quindi non si può fare Non si può fare, questa è ancora più deleteria di skill drain magari, no? Perché alla fine skill drain riesce anche a toglierla con un pancreatops, ho capito? Quindi dimensional barrier ti blocca un turno Però questa ti fa letteralmente perdere, quindi diciamo Ci sono passato pure, fa male Poi, limitate, fontana runic Sono andato direttamente al sodo Perché comunque è un mazzo che secondo me non ittano completamente Andare a togliere altro o l'addino secondo me non è abbastanza Cioè, sta fontana è troppo forte È effettivamente troppo forte perché ti fa un riciclo troppo infinito Ti fa pescare troppo Secondo me è la più toccabile È la più forte che dovrebbe andare a essere toccata Secondo me, poi molto probabilmente neanche la toccano Ovvio Andare a toccare in maniera così Cioè, bandirla mi pare eccessivo Perché poi il mazzo non è difficilmente Ibridandolo anche Diciamo che diventa un po' più difficile Limitandolo magari ancora a spazio di manovra E vediamo, insomma Poi, come altra limitata Sprite e zampillo Anche se secondo me Sprite Boh Secondo me manco lo ittano Perché gliel'hanno fatto a tradimento prima Secondo me non credo che sia Però, insomma Potrebbe comunque essere ittato Poi andiamo alle semi limitate Io effettivamente come a limited non so che cavolo metterci Vabbè, semi limitate Vogliono tutti apertura marchiata Secondo me Brandon non lo toccano Tralasciando la Quella di prima La trappola di prima Apertura marchiata Sì, è molto forte Quindi se una piccola bottonella Gliela potrebbero dare Speron di noi in Branded Fusion Perché anche quella Carta molto molto forte Però Io non sono Un grande fan Della itta Branded Fusion Secondo me nulla merita Magari Una piccola toccatina Apertura marchiata Che comunque è una carta abbastanza forte Ci può stare Anche perché come vediamo a destra I sopporti che usciranno Sono abbastanza rotti Quindi Magari vai Vedi un attimo Apertura marchiata Come va E se poi limiti anche In Branded Fusion O almeno Viene semilimitata Anche in Branded Fusion Poi 2 per Mistosauro Perché poi escono i sopporti Da World Survivors Forse Come 3 per Ci metterei anche Il Pancratops Ci potrebbe stare Quindi Oddio È ancora limitato Il Pancratops Penso di sì Mi pare di sì Non mi ricordo Però se non è limitato Lo rimettiamo a 3 Poi Semilimitato anche Lo Stregone Semilimitato anche La Salamagna Cazzella Che pian piano Poi arriverà a 3 Secondo me Antico Drago Fatato Semilimitato Ma può andare pure In 4 per Ormai Tanto Questo Ormai con Nella errata Diventa molto più fattibile Quindi Tanto Al limite Si giocherà massimo In 1 per Quindi anche Liberarlo in 3 per Ci sta E effettivamente Come È libero Non è che Sappia tantissimo Cosa mettere O magari Vanno a mettere In 3 per Roba già Semilimitata Magari La Lerilusk La Desires Anche se la Desires Credo che rimanga a 2 Non penso La tocchino E Più che altro Il resto non lo so Forse appunto Pancratops Magari 3 per Comunque Questa Era la mia Predizione Della banded Spero che Abbia un senso Secondo me Si dai Ci può stare Magari Non è il massimo Ma secondo me Ci può stare Anche se Potrebbero toccare Poco po Potrebbe essere Quella banded Che ti va Proprio Se te la diamo Tanto per Poi vediamo Magari La mettono Molto più avanti E danno la sferzata Ancora più Devastante Comunque Detto questo ragazzi Fatemi assolutamente Sapere voi Cosa avrei pensato Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti